La partenza a circa 10 milioni di connazionali in occasione della festa di tutti i Santi lo sostiene Federalberghi che grazie a un'indagine realizzata da Tecneso, poco più di 4.000 italiani, tratte già anche le destinazioni, la spesa, l'alloggio e i mezzi di trasporto scelti da coloro che stanno per mettersi in viaggio per l'ultimo ponte del 2024. Quasi il 90% dei turisti di ogni Santi opterà per una meta nel bel paese, il restante 11% andrà all'estero. Più di 7 su 10 viaggiatori si muoveranno in auto, quasi il 17% in aereo e circa il 4% in treno. In cima la classifica delle destinazioni, le città e le località d'arte, al secondo posto la montagna e al terzo il mare, mentre i laghi attireranno poco più del 3% dei turisti, poco meno del 3% le terme. L'alloggio preferito resta alla dimora di amici o parenti e a distanza di 10 punti in percentuale le strutture ricettive e le case di proprietà. Ogni persona spenderà in media 462 euro e tre giorni circa di vacanza produrranno un giro d'affari di oltre 4 miliardi e mezzo e sono i motivi economici a frenare più della metà di coloro che non partiranno. Nell'imminente lungo fine settimana sarà l'87,5% degli italiani a rimanere a casa propria.